Su Laura Fasiolo il centro-sinistra ha lavorato per arrivare al primo turno in maniera più unita possibile. È stato un confronto lungo e non facile quello interno al centro-sinistra e Zontino per indicare alla fine il nome dell'ex senatrice Laura Fasiolo in quota PD a candidata a sindaco di Gorizia. Una sfida che si prefigura a quattro, oltre a Ziberna e Fasiolo, anche Pierpaolo Martina per l'area di centro e l'outsider indipendente Franco Zotti. Ma nelle parole del segretario del Partito Democratico, Diego Moretti, la partita più ardua sarà quella contro il sindaco in carica. L'avversario è comunque un avversario, è un sindaco uscente, comunque non sarà facile. Credo però che il giudizio che oggi viene dato al lavoro dell'amministrazione uscente non sia un giudizio positivo. E' una maggioranza che in questi anni si è sfaldata, che non ha dato risposte particolari né efficaci ad alcune questioni amministrative importanti. Ancora da sciogliere alcuni nodi riguardanti le liste, le alleanze, poi la campagna potrà partire ufficialmente. La piazza goriziana destra grande interesse a livello regionale anche per l'importante appuntamento del 2025. Di fronte alla prospettiva importantissima per la città, per la provincia, per la regione di Gorizia 2025, capitale europea della cultura Nova Gorizia-Gorizia, io credo che ci sia bisogno di un'amministrazione autorevole, un'amministrazione unita, un'amministrazione efficiente, quello che in questi cinque anni non è stata sicuramente l'amministrazione di Ziberna.